benvenuto all'alfabeto del marketing oggi sono molte le parole che iniziano con la lettera c e che tratterò in questo nuovo viaggio insieme tra le lettere dell'alfabeto per esempio c'è la lettera c di community posto ideale dove presentare lanciare progetti condividere le tue idee e parlare con altri utenti di argomenti di interesse comune ma c'è anche la c di contenuti che sono alla base dell'attività di content marketing e che se di valore e realmente utili possono non solo aiutare ma anche aiutarti a raggiungere nuovi potenziali clienti clienti altra parola con la lettera c che ancora troppe attività una volta acquisiti tendono a trascurare sì perché essendo così impegnata a ricercarne di nuovi molto spesso si dimenticano del fatto che chi ha già comprato non solo potrebbe ricomprare ma anche diventare se soddisfatto promotore silenzioso della loro attività però immaginare infatti se ogni tuo singolo cliente condividesse sulla propria bagga social un tuo contenuto video creato apposta per lui quante persone saresti in grado di raggiungere con un semplice click certo ovvio tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare serve pianificazione tempo costanza attenzione per creare dei contenuti efficaci ma è pur vero che è proprio questo che nel tempo ti permette di fare la differenza la customer experience ossia l'esperienza che fai vivere al tuo cliente perché perché molte volte è più emozionante l'essenza del viaggio che il viaggio di per sé e se pensi che tutto questo sia impossibile da gestire nell'arco di una giornata stai tranquillo con un calendario editoriale sviluppato su misura per te riuscirai a intassellare con successo ogni singolo pezzo del puzzle